impara l'italiano con omno uno rosso due blu tre aranza quattro giallo cinque verde sei viola viola sette rosa nove arcobalino dieci bianca rosa blu 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 Rosso 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Melanzana Ravanello Peperone 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 Poi 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 verde broccoli viola melanzana arancio carota rosso pomodoro pomodoro rosso 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 roto rosso 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 blu arancio verde mela vertilo arancio pera mela mi piacciono mi piacciono le banane sì mi piacciono mi piacciono ti piacciono le pere no non mi piacciono ti piacciono le arance no non mi piacciono ti piacciono le mele sì mi piacciono ti piacciono le pere no non mi piacciono ti piacciono le arance no non mi piacciono ti piacciono le arance Maita Jeans Gona Capello Sharpa Sharpa Jacka 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 Grazie a tutti Grazie a tutti 1 1 mela 2 2 ciliegie 3 3 mirtillo 4 4 fragole 5 5 pere 6 6 banane 7 7 anguria 8 8 ananas 9 9 arancio 10 10 10 guva 11 11 11 11 11 12 13 17 A presto! 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 A presto!